Ciao e benvenuti in un nuovo video tema casa. Oggi andremo a preparare insieme l'ammorbidente, un ammorbidente naturale, fatto di ingredienti naturali e anche di facilissima reperibilità, economici e che fa bene all'ambiente e anche ai nostri campi. Quindi se siete curiosi di vedere come preparare un ammorbidente fai da te, economico e naturale, seguite il video. Allora innanzitutto vi mostro quello che ci serve per prepararlo, ovvero dell'acqua demineralizzata, ce ne servirà un litro, dell'acido citrico, ce ne serviranno circa 100 grammi, anche se qua credo ce ne siano meno, ma non importa, l'importante è che ce ne siano almeno 50 grammi, quindi più ce n'è meglio è, comunque non meno di 50 e non più di 100 grammi su un litro d'acqua e dell'olio essenziale a piacimento, io in questo caso andrò a utilizzare questo di lavanda. Cominciamo subito, io ho una bottiglia vuota, questa qua di acqua, e andiamo a riempirla innanzitutto con la nostra acqua demineralizzata. Allora ecco qua, dobbiamo mettere quindi all'interno di questa bottiglia un litro d'acqua demineralizzata, e cominciamo aiutandoci con un imbuto. Allora aspettate che... facciamola scendere bene, ok, continuiamo. Ok, dobbiamo arrivare quindi a un litro di acqua demineralizzata. Ok, una volta arrivati al litro, che poi è praticamente quasi dove c'è il collo della bottiglia, andiamo a inserire il nostro acido citrico. Abbiamo detto 100 grammi. Vediamo un po' se qua li abbiamo. Sì, assolutamente, pensavo fosse di meno, invece c'è... Dunque, aiutatevi sempre con qualcosa per fare fuoriuscire l'acido citrico, altrimenti andrà un pochino con l'acqua a solidificarsi e a fare difficoltà a scendere. Ecco qua. Ci siamo quasi, quindi praticamente ancora... Vediamo un po' tanto così. Ok, perfetto. Siamo arrivate a un litro d'acqua e 100 grammi di acido citrico. Adesso, non vedete nemmeno l'importante che vedete quello che faccio, andiamo a mettere, se volete, perché questa non è una cosa obbligatoria ovviamente, delle gocce di olio essenziale. Io in questo caso utilizzo quelle di lavanda e ne mettete 10 gocce. Non è obbligatorio perché ovviamente la funzione di ammorbidente, di acqua demineralizzata e acido citrico va benissimo così. Se volete semplicemente dare un po' di profumo al vostro ammorbidente, potete mettere appunto dell'olio essenziale, altrimenti non è obbligatorio. Io voglio darle un pochino di profumo, quindi metto 10 gocce di olio essenziale di lavanda. Quindi, le andiamo a contare insieme. 7, 8, 9 e 10. Ok. Quindi, una volta messo anche il nostro olio essenziale, chiudiamo la bottiglia e molto delicatamente iniziamo a scotterla per fare sì che l'acido citrico e l'acqua e ovviamente l'olio essenziale si mischino tra di loro. Ecco qua. E come avete visto, in modo semplicissimo, abbiamo preparato il nostro ammorbidente naturale, fai da te ed economico. Ed eccolo. Come avete visto, tre ingredienti. Acqua demineralizzata, acido citrico e a vostra scelta, olio essenziale, che come vi dicevo, non è obbligatorio. Con questo, che è un litro, io ci faccio circa 15-16 lavaggi, perché poi dovete dosarvi sempre come il classico ammorbidente. Questo tipo di ammorbidente non mi rovina la lavatrice, non me la lascia con quella sensazione di viscidino, che a volte succede con l'amorbidente tradizionale, che ormai non utilizzo più da sicuramente 6-7 mesi. I capi rimangono molto più morbidi e non con quella sensazione di ammorbidente che non si risciacqua mai bene e ovviamente aiutiamo il mare e l'ambiente, perché l'ammorbidente, come si sa, è altamente inquinante, invece questo assolutamente no. Quindi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un pollicino in su e condividetelo. Inoltre, vi ricordo, naturalmente, iscriviti al mio canale, attivate la campanella e lasciatemi un pollicino in su. Ma questo forse ve l'ho già detto e se volete supportarmi, mi raccomando, potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, ma vi lascio tutti i riferimenti in Infobox. Io vi saluto, vi invito anche a seguirmi sulla mia pagina Instagram, sempre come a casa di Fabiana. Come avete notato, il mio canale ha cambiato nome, sì. E niente, io vi saluto e al prossimo video. Ciao!